io no ciao ragazzi benvenuti nell'area youtube del convento di l'onato fantastici ragazzi allora da dove venite ragazzi vicino microfono mi raccomando parlate da gredi ho saputo però che in mezzo a voi c'è un ragazzo con la sciarpa che fa cosa di professione il che di voi che fai al pilota nessuno a nessuno che fa il pilota perché venendo da gredi ci deve essere uno che fa il pilota di aerei certo certo voi ragazze cosa fate invece nella vita camicazze poi altre due che la fanno nella vita si lavora tanto niente cazzeggio si lavora troppo metalmeccanica scuola anche io faccio metalmeccanica quindi puoi dirlo piacere orgogliosi sono ok perfetto allora ragazzi festeggiate qualcosa qui al convento village la nostra esistenza niente siamo tutti di passaggio allora dedichiamo questa canzone diciamo tutti gli abitanti di chiedi volete cantare come mai come mai di zucchero max pezzali ok perfetto di zucchero allora le notti non finiscono all'alba della via le porto a casa insieme a me le faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui inutile parlare sai non capiresti mai seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai mi sento un po' mi sento un po' bambino ma lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film e poi all'improvviso sei arrivato tu non so chi l'ha deciso ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità ma va bene che serva per farti uscire come vai ma chi sarai per fare questo a me non ti chiederei ad aspettarti ad aspettare te come vai ma chi sarai per farvi stare qui fui seduto in una stanza pregando per un sì gli amici se sapessero che sono proprio io pensare che credevano che fossi quasi un dio perché non mi fermavo mai nessuna storia inutile uccidersi d'amore ma per chi mio porco lo sai amico riso non so chi l'ha deciso ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità ma va bene pur che serva per farti uscire come vai ma chi sarai per fare questo a me non ti chiederei ad aspettarti ad aspettare te dimmi come vai ma chi sarai per fare questo a me dimmi come vai ma chi sarai per fare questo a me non ti chiederei ad aspettarti ad aspettarti ad aspettare te dimmi come vai ma chi sarai per farvi stare qui qui seduto in una stanza pregando per un sì bravissimi ragazzi i piloti che vengono tra chi basta bravissimi bravissimi numeri uno raffa ti svegliato solo perchè sta dipriando con la mia morosa che ci siamo tutti che è che ci siamo che Grazie a tutti.